Allora, siamo arrivati a Certaldo, il paese di Giovanni Boccaccio, giusto? Famoso per De Camerone e le novelle, chi aveva scritto? Sì, a parte De Camerone che è famoso, ma aveva scritto pure le novelle di Boccaccio, famose, no? È un poeta discreto è stato, certo, non come Dante, insomma, e nemmeno come Petrarca forse, però, però... ha avuto la sua fama, ok, allora, andiamo a vedere il borgo medievale di Certaldo, comunque qua sotto la periferia è molto tenuta bene, sì, è molto tenuta bene, anzi dice, è tenuta molto bene, e vabbè, ho sbagliato, gli spazi verdi sono puliti, ho giù, ecco, da qui si vede, si vede molto bene il borgo medievale su in alto, ora vediamo dove possiamo arrivare con le macchine, comunque questo quartiere periferico è tenuto molto bene, ripeto, guardate anche che belle costruzioni, che bei progetti, comunque qua c'è la facoltà di architettura di Firenze o di Siena, Siena credo, sia Siena che Firenze avranno le loro facoltà di architettura, quindi siamo in una zona dove non mancano gli architetti, ecco, sono belle queste palazzine, bei disegni, qui è un piccolo campo sportivo, aperto a tutti, vedete, non è male, qui vi faccio una panoramica di Certaldo, Certaldo Centro, vedete, e questa si chiama Piazza Boccaccio, l'altronde, come si poteva chiamare, è una bella piazza, andiamo a vederla da vicino, ecco qua, vedete la piazza, quello è il Duomo, poi oggi è festa qui, c'è la fiera, le bancarelle ci stanno, stanno predisponendo tutto perché, perché, per mettere le bancarelle, questa sera comincia la festa, dura una settimana, ma noi andiamo via perché siamo stanchi. Giù la piazza Boccaccio e da qui si vede una bella panoramica, noi abbiamo preso la funicolare, quindi se venite in questa città, Certaldo, c'è la funicolare che vi porta al Borgo Alto, altrimenti dovrete fare molte scale, salire su in alto, vedete giù, vi faccio vedere una panoramica di queste zone, vedi gli orti come vengono in ordine, ripeto, è tenuto abbastanza in ordine il territorio, guardate, quello lì non lo so che cos'è, vedete, vedete le belle colline qui, quello è il Duomo, il Campanile e la città bassa, questo è un borgo medievale, questa è la funicolare che hanno anche a Napoli, funicoli, funicola, no a Napoli, questo è te, a Capri, dove sta la funicolare, allora appena siamo arrivati sopra la funicolare, avrete di fronte questo edificio, da qui si vede che è medievale, vedete i merli, le bifore, stile gotico, vedete, i merli stavano da tutte le parti per difendersi dagli attacchi, come vedete questi edifici sono fatti tutti di mattoni, perché qui non esistono più cave di calcare, quindi tutto di mattoni la parte della Toscana, sono grandi fabbriche di mattoni qui nel Sienese, quindi eccole, però poiché non fa molto freddo, hanno tenuto negli anni, vedete, questa è via Boccaccio, un altro onde, qui piazza Boccaccio, via Boccaccio, tutto Boccaccio, evidentemente è chiaro che c'è un po' di rispetto verso questo poeta che è nato proprio qui, vedete che belli edifici, voi andiamo a vedere di che si tratta, cosa ci sta adesso, ma questi erano edifici residenziali del conte qui, del signorotto del paese, è chiaro, ma adesso naturalmente qua c'è molto turismo, vedete, vedete i tavoli qui, ci sono apparecchiati, c'è un ristorante, il castello si chiama, via dell'arena, l'arena è la sabbia praticamente, detta rena, vedete, è bello, beh sono belli però, bello bello sto borgho, vedi dove vale, è uno spettacolo, avrà partecipato ai borghi più belli, penso di sì, penso che ci ha partecipato, alla gara dei borghi più belli d'Italia, si stanno preparando perché c'è la festa medievale, guardate quante vetture sono venute, noleggi, a scaricare i prodotti, perché qui ci saranno migliaia di bancarelle, questa festa attira turisti da tutta Italia, vedete qui? e quindi qua, comincia questa sera, credo sappia, però noi andiamo via e non ce la faccio, è uno stress troppo forte, vedete, quello suo è il castello qua allora, è quello suo il castello, via che si chiama via Costarella, qui c'è un'esposizione di quadri, di quadri d'autore, vedete, si chiama Farfalla di luce, Farfalle di luce, è veramente uno spettacolo, era da venire quando c'era questa manifestazione, la sera, in questi cortili, vedete, hanno organizzato, ci saranno degli spettacoli, guardate, hanno già messo le luci, vediamo che spettacolo fanno qui, lo diranno, casa del Boccaccio, 12-13 luglio, ore 21.45, durata 30 minuti, l'arte ci fa volare, trio di danza e di percussioni medio orientali, che nasce dal connubio di un lungo percorso di studio, insieme ad anni di esperienza nel mondo dello spettacolo, strada e teatro, ogni componente del gruppo, la creazione di questo nuovo progetto è dovuta alla passione per il mondo arabo, ma che fanno la danza del ventre questi, la sua meravigliosa arte musicale e non solo, il gruppo è composto da due ballerine di danza orientale, ah, e ho detto, ho detto, di questa danza, che da un porcazionista di Darbuca, che cos'è questo, un tamburo a cornice, tipica di indipendenti percussioni della musica in questione, quindi è quella musica così proprio accattivante, no, che ballano queste, l'abbiamo vista nei film, a Benurre l'abbiamo vista in altri film, benissimo. Guardate quanti turisti, guardate, eppure è un giorno feriale, è un caldo atroce, 40 gradi credo che stiamo, eppure è pieno di turisti, guardate, evidentemente sono stati attirati da questa manifestazione che si chiama Mercantia, vedete? qui c'è la tomba del Boccaccio, andiamo a vedere, si chiama Piazza, sa Jacopo e Filippo, allora questa chiesa, che si chiama Chiesa di Santissimi Jacopo e Filippo, XIII secolo, riposa in pace, è l'urna di Beata Giulia, e c'è la tomba di Giovanni Boccaccio, Santa Messa, domenica e festivi, dentro è molto buia, vi faccio vedere, ma è impossibile farci qualche cosa, effettivamente è molto buia, ma io credo che questa chiesa sia stata rifatta, però, è possibile che era così, non la vedo troppo perfetta, io la vedo troppo perfetta, secondo me è stata ricostruita questa, la storia di questa chiesa, non lo so. Roberto Tizio, commento degli Agostiniani, sotterraneo, allora qua, è qui dentro, concerto per bicchieri musicali, Roberto Tizio dà vita alla musica in un modo piuttosto insolito e affascinante, usando solo la punta delle dita che scorrono rapide e leggere da un bicchiere all'altro, producendo suoni diversi, creando armonie raffinate con una resa lirica, di grandi capolavori classici, classici, sicuramente sarà bellissimo, sicuro, vi faccio una panoramica di questo cortile, bellissimo, museo di arte sagra, qui c'è, beh insomma è tenuto veramente bene questo borgo medievale pulito, ordinato, io non posso dire niente, però purtroppo, cioè purtroppo è così deve essere, ogni cosa, la fornicolare si paga, l'ingresso si paga, i parcheggi si pagano, si paga tutto insomma, non costa molto, è biglietto ridotto 2 euro, biglietto cumulativo 5 euro, però insomma è pure giusto così che si paghi perché altrimenti non si può mantenere questo patrimonio se nessuno paga, è impossibile mantenere il patrimonio artistico se nessuno paga, non si possono fabbricare i soldi, ci sarebbe l'inflazione. La chiesa di Santissimi Jacopo e Filippo è originaria del XII e XIII secolo, a Navata unica, ospita all'interno a freschi, sculture, ciborie in terracotta e in metrata, di scuola robbiana, al centro accanto al basso rilievo, raffigurando il boccaccio, si trova la tromba del poeta, la chiesa ospita anche l'urna di Beata Giulia, dalla chiesa si accede al convento degli Agostiniani dotato di un chiostro romanico particolarmente suggestivo che permette l'accesso della cella della Beata Giulia, rimasta integra nel tempo. Riventi da sale e tabacchi, osteria toscana, osteria da Chichibio, prezzo fisso menù 19 euro, salame alla cipolla di Certaldo, quindi nella bassa qui producono grandi 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 cipolle, come la cipolla di Tropea, qui c'è la cipolla di Certaldo, menù toscano, comprende zuppa di cipolle di Certaldo, piatto con salumi toscani, poi mezzo litro di acqua, un quarto di vino rosso, o bianco sarà sicuramente, o pane coperto e servizio a tavola, prezzo turistico questo è, questo ristorante i cani sono sempre benvenuti, ok, alla sommità di questa collina c'è il castello, vedete, eccolo qui, questa è via Boccaccio e quindi praticamente qua muore, il paese finisce qui, poi è la parte più alta questa, però vedete che bellissima visuale, a parte qui hanno rifatto tutti i pavimenti, fatti bene veramente, ci hanno lavorato qui eh, hanno fatto un ottimo lavoro veramente, guardate questo viale che porta fino giù alla porta di ingresso, guardate, è uno spettacolo, guardate quanto è bello, questo era un borgo io penso discreto, diciamo un tenore di vita abbastanza alto perché erano delle belle costruzioni c'erano, non era povero, ho capito, poi era largo, le strade larghe, guardate, non erano quei piccoletti stretti che non metti mai la luce, guardate quanto è bello qui, ci abitano credo, perché vede i portoni finemente ristrutturati e vedo anche i fiori nei balconi, vedete, qua ci abitano, Ope, una panchina bianca, simbolo di pausa, di riflessione, di attesa nel caos gioioso della festa, l'attesa della speranza in un luogo magico e surreale, fra rami consumati dal tempo e ricamati da vecchi licheni, etere farfalle bianche, volteggiano silenziosi, infondendo nel visitatore la loro aurea di bellezza, rinascita e leggerezza, torneggia una gigantografia di un'opera dell'artista Alessandro Di Vicino Gaudio, Ope, salazione artistica a cura di Exponent, le farfalle sono realizzate da Karl Amant, Mercantia 2023, è una grande manifestazione sta Mercantia, che io effettivamente non sapevo che esisteva, perché in Italia ce ne sono migliaia di manifestazioni bellissime, importanti, come facciamo a saperle tutte? Prima di andare via vi faccio vedere un altro scorcio bellissimo, vedi qua c'è scritto Ristorante L'Antica Fonte, e poi qui sono tutte queste casine così a schiera, sono carine, quella l'hanno rifatta in stile moderno e effettivamente ci sta male, vedete, purtroppo è così, quando le altre sono tutte uguali, è fuori dal coro quella, quella costruzione è fuori dal coro, si chiama Farfalle di Luci, sono appese tutte opere d'arte dei pittori contemporanei, vedete quante sono? Hanno fatto un'ottima illuminazione sopra, guardate che spettacolo, veramente ci hanno lavorato, andiamo a leggere le spiegazioni, Farfalle di Luce è un progetto di officina dell'arte che trae spunto e riflessione proprio dal suggerimento che la breve vita delle Farfalle ci suggerisce, metaforicamente che non è tanto il tempo fisico che passiamo sulla terra a renderci vivi, ma il modo in cui viviamo, in cui ci approcciamo al percorso, è la stessa possibilità di poterci essere che rendere questa strada terrena, degna di essere vissuta. Possiamo scorgere allora dietro tutto questo insegnamento meraviglioso e profondo che riunisce fluidamente un misterioso legame, la precarietà della vita terrena con l'eternità. Opere pittoriche di artisti dell'Associazione Officina dell'Arte. Pittori sono Emanuele Bevilacqua, Filippo Capperucci, Caeti Malechi, Federico Michelone, Madonna quando gli artisti abbiamo, Moac, Michela Riccio, Giorgia Salvini, Sabrina Taddei. Metamorfosi del bozzolo, vedete? Il bruco, qui c'è un pinocchio che è venuto dal legno, metamorfosi del legno, qui questa non la ricordo che cos'era, andiamo a leggerlo. Metamorfosi, visione in trasformazione. La metamorfosi del bozzolo come immolucro e custode di visioni che evolvono in molteplici forme. Sentite il canto incessante delle cicale, che è una cosa pazzesca. Comunque loro hanno messo questa rete a protezione, come quella che si mette per gli olivi, per raccogliere gli olivi, così non casca, non casca di immondizia sotto, sopra i tavoli, qui c'è una pizzeria, questa è un bel brevetto questo, ottima idea. Poi intanto la puliscono. Poi intanto la puliscono. Poi intanto la puliscono.